Ancora polemiche tra gli artisti nisseni e l'amministrazione comunale. Stavolta al centro del dibattito gli spettacoli comici organizzati per quest'estate. L'amministrazione ha infatti programmato la rassegna comici da legare e in date ravvicinate sono previsti gli spettacoli del programma Si Ride all'Arena San Pietro, messo a punto dagli artisti nisseni Michele Privitere e Alessandra Falci. Questi ultimi hanno criticato la scelta dell'amministrazione comunale visto che anche in passato a loro dire si era registrata una concomitanza o un'eccessiva vicinanza tra gli spettacoli organizzati da loro con altri organizzati dal comune come nel caso di uno spettacolo con Milena Vukotic e la serata per la raccolta fondi in favore dell'Ucraina. Una mancanza di tutela verso gli artisti nisseni secondo Privitere e Falci. Sulla questione l'assessore comunale Fabio Caracausi ha affermato dispiace che succedano queste cose perché da parte nostra non c'è nessuna volontà di fare concorrenza sleale né di danneggiare nessuno. Il comune ha aggiunto Caracausi e eroca servizi e per questo è stato approntato un programma di spettacoli comici anzi le iniziative dei privati sono linfa per la città. Sullo spettacolo per l'Ucraina la data è stata scelta in quanto era l'unica compatibile con la disponibilità di Lello Analfino e del suo gruppo di artisti. Sulla vicenda è intervenuta anche il vice sindaco grazie a Gian Musso che ha affermato Noi siamo contenti che proliferino le manifestazioni e che questo settore si stia risvegliando. Il fatto che dei ragazzi si mettano in discussione portando avanti un loro cartellone è lodevole e noi per primi incoraggeremo l'acquisto di questi biglietti. Quello degli eventi è un campo in cui dall'altro lato il comune deve garantire dei servizi che si esplicano anche attraverso gli eventi.